Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Caterina e oggi porto un video di cui sono molto contenta. Questo è un vlog in gara, oggi andiamo a Casale San Nicola e andiamo a fare campionati regionali indoor. Oggi è una warm up, perciò sono vestita con questa maglietta termica grigia e poi ho i pantaloni blu e mi metterò in sottosella blu dell'animo con la cuffietta blu e niente, a parte questo mi metterò ovviamente la felpa sopra e anche il gilet e anche la giacca perché fa freddo e non so, sono tipo le 7 e niente, io ho la gara verso le 10 e mezza, 11 penso, perché la 110 incomincio alle 10 e poi c'è la mia anche alla 100 e niente, adesso andremo a fare questa warm up e poi domani c'è il campionato, il primo giorno, poi il secondo giorno è domenica e niente, sono super super felice, super contenta, non vedo l'ora e adesso andiamo, oggi viene con noi anche Lola, che sta qua, che non si vuole ancora svegliare e adesso prendo tutta la roba, vado in giù in macchina e ci vediamo più tardi, ciao! 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 Adesso sto andando verso il parcheggio Però oggi abbiamo finito Ho fatto i box, ho fatto tutto E niente, sono super contenta È andata super bene E non ci vediamo più tardi, ciao Ciao ragazzi, sono tornata a casa Scusate se non ho vloggato tantissimo Però dato che non abbiamo il groom È stato un po' un caos E io ho sellato appena Quasi appena sono arrivata Ho guardato il giro, ho fatto tutto E poi siamo andati in Campogara È andata molto bene, sono super contenta Erano otto salti Per questo è abbastanza semplice Soltanto che le girate vengono molto velocemente Perché ovviamente è un campo indoor E niente, sono stata super 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 contenta Di come è andato in Campogara In Campoprova un po' meno perché Prima che avevo incominciato a saltare Ha fatto i numeri, ha sgroppato Non l'ho mai visto sgroppare così tanto Ha fatto davvero I salti mortali in aria Però mi sono letta, non sono caduta E di quello sono molto contenta E niente, super carica per domani Super 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 contenta di oggi Spero di montare come è montato oggi domani E io vado Noi ci vediamo domani Non c'è nient'altro da dire Vi mando un grandissimo bacione Domani spero di vloggare di più E ci vediamo nella prossima giornata Ecco Buongiorno a tutti Oggi è sabato Oggi ho la gara Mi sa Fasi Non sono molto sicura Adesso vado a vedere però Faccio Come ho detto ieri la cento E oggi è il primo giorno del profeo brevetti Junior E niente Io sono vestita Sono pronta per andare Ho sui pantaloni della sortoir Questa Tipo questo col fine della gaffa E poi la maglietta Della cavallina toscana Che è quella più calda Che ho dato che farò la gara Molto tardi E niente Adesso io vado A pranzo E poi Vado in maneggio Ci vediamo più tardi Ciao 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 I just need to clear up my head I just need to clear up my head I just need to clear up my head I just need to I just need to I just need to clear up my head brava buongiorno a tutti ragazzi oggi è domenica mi sto preparando per uscire sono e adesso andiamo a fare colazione e poi andiamo direttamente e mi sto vestendo molto calda perché ho giù il prezzo e poi andiamo direttamente e mi sto vestendo molto calda perché ho giù il prezzo e mi sto vestendo molto calda perché ho giù il prezzo e mi sto vestendo molto calda perché ho giù il prezzo e mi sto vestendo molto calda perché ho giù il prezzo allora ragazzi io sto editando il video e mi rendo conto che mi sono scordata di vloggare in tanti di questi momenti ma ero molto molto contenta e volevo condividere queste emozioni con tutte le persone intorno a me e mi devo anche abituare a vloggare perché mi fa stranissimo però sono molto molto contenta di questo fine settimana non potrei essere più contenta Cool Boy è stato assolutamente fantastico mi ha aiutato in delle situazioni che non erano le migliori e anch'io secondo me ho montato abbastanza bene e sono molto 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 contenta e non ho nient'altro da aggiungere io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un pollicione in su fatemi sapere giù nei commenti quello che volete vedere nei prossimi video e magari se volete iscrivetevi al canale io vi adoro tantissimo mi scusate per l'assenza su youtube ma sto nella fase di dover finire esami e cose del genere perciò non riesco molto a editare però vi prometto che presto incomincerò a pubblicare dei video normalmente e niente vi voglio molto molto bene ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao